Il calo demografico è ormai il tema con cui il nostro sistema scolastico dovrà fare i conti in modo sempre più decisivo. Le conseguenze del decremento delle nascite sono molteplici. La più evidente riguarda il calo degli alunni e la diminuzione di fabbisogno di insegnanti e di altro personale scolastico. Per la verità, proprio in questi giorni, il Ministero sta consegnando alle organizzazioni sindacali le tabelle degli organici previsti per il 2022-23. Nonostante un calo di almeno 30.000 alunni rispetto all'anno in corso, il numero delle cattedre rimarrà sostanzialmente invariato, anche se i sindacati continuano a chiedere un incremento dei posti, in modo da evitare di avere classi sovradimensionate. Ma il Ministero dell'Economia non si sta mostrando particolarmente sensibile all'argomento, anche se non mancano interventi di autorevoli esperti, uno fra tutti Carlo Cottarelli, che ribadiscono la necessità di incrementare la spesa per l'istruzione. Ma a raffreddare le speranze di chi parla di aumento dei fondi per la scuola ci ha pensato la ragioneria generale dello Stato, che nella relazione accompagnatoria del documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 aprile scrive testualmente. Da tempo le proiezioni ufficiali evidenziano una tendenza generalmente comune, anche se con intensità diverse, nei paesi dell'Unione Europea. Parliamo del rapido invecchiamento della popolazione. Ciò comporta in primo luogo una riduzione significativa della popolazione attiva e quindi un maggior carico su di essa delle spese di natura sociale. Le conseguenze sono del tutto obbligate, almeno secondo la ragioneria generale dello Stato. Aumentano i costi dei sistemi pensionistici e dell'assistenza sanitaria e le maggiori spese sono solo in parte compensabili dai minori esborsi per l'istruzione legati al calo delle nascite. Ecco perché il DEF, che prelude alla legge di bilancio alla quale il Governo dovrà iniziare a pensare subito dopo la pausa estiva, prevede che nei prossimi anni la spesa per l'istruzione dovrà scendere. Oggi il sistema scolastico assorbe all'incirca il 4% della spesa dello Stato, ma il DEF parla di arrivare al 3,5%. C'è però un altro elemento di cui si dovrà tenere conto. La riduzione di spesa da parte dello Stato potrebbe essere compensata da interventi delle regioni, anche nell'ottica della riforma della autonomia differenziata alla quale sta lavorando da tempo la Ministra per le Autonomie Regionali, Maria Stella Gelmini. Ma qui si apre un'altra grande questione. Diminuire l'intervento statale e aumentare quello regionale potrebbe avere come conseguenza un aumento delle differenze fra le diverse aree del territorio nazionale. Il problema ovviamente è complesso, noi su questo continueremo a tenervi informati. Seguiteci quindi su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it Scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, le vostre lettere, i vostri commenti, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie a tutti.